ciao da Filippo Giannini di trading facile ho il piacere di invitarti al prossimo webinar in collaborazione con active trades l'appuntamento è per lunedì 31 gennaio alle ore 18 per parlare di trailing stop e breakeven stop quando dove e come usarli quindi mi raccomando non perderti questo appuntamento totalmente gratuito io ti aspetto lunedì 31 gennaio alle ore 18 a a a a